Buon pomeriggio bentornati dalla redazione web della città le notizie di oggi nostra seconda edizione cominciamo subito con la viabilità andando a vedere che cosa ci aspetta per questa sera e anche per domani allora vi segnalo che abbiamo dei semafori in manutenzione per oggi si tratta di quelli in corso Orbassano all'angolo con le vie San Marino e Boston ma la segnalazione principale riguarda invece domani perché dalle 9.30 alle 13.30 ci sarà la chiusura temporanea della corsia di marcia del raccordo autostradale Torino Caselle per dei lavori di 5T più precisamente la chiusura sarà tra il chilometro 0 più 680 quindi proprio dall'inizio della bretella fino al chilometro fino al chilometro 1 più 500 quindi circa un chilometro di chiusura della corsia del raccordo appunto Torino Caselle. Vediamo la situazione del tempo perché ha fatto decisamente caldo oggi in città vedete la rilevazione dell'arpa Piemonte sulla nostra home page ore 14 un cielo poco nuvoloso 32 gradi temperatura sorretta anche da un'umidità abbastanza elevata siamo intorno al 44 per cento le previsioni per le prossime ore la nuvolosità dovrebbe intensificarsi dovremmo avere qualche pioggia probabilmente questa sera ma continuerà a fare caldo le temperature minime nella notte saranno intorno ai 20 21 gradi le massime di domani intorno ai 26 30 gradi siamo in collegamento con Mauro Marras dalla redazione di Torino Click allora andiamo a sentire che cosa si prepara per il numero in uscita questa sera Mauro a te apriremo con il concerto di di Ron di venerdì venerdì ci sarà un concerto in al parco Colonnetti per celebrare la chiusura dei lavori di via Artom comincerà alle 18 con una serie di stand della confesia centi e alcune attività di nazioni alle 9 e mezza comincerà il concerto gratuito di Ron alla fine ci saranno anche i fuochi d'artificio e invece il secondo argomento è quello è un'intervista ad Altamura l'assessore al commercio che ci parla dell'estate di della movida e di vari argomenti che sono di sua competenza grazie Mauro allora buon lavoro a te i colleghi di Torino Click noi andiamo a vedere le notizie dal web della città e cominciamo con una notizia relativa al tennis lo sport del momento come sapete è in corso in questo proprio in questi giorni il torneo di Wimbledon stiamo per arrivare alla fase dei quarti di finale beh anche a Torino è protagonista il tennis internazionale perché al fino al 5 di luglio al circolo della stampa in corso Agnelli ci sarà il torneo internazionale ATP lo Sporting Challenger che è arrivato ormai alla sua ottava edizione l'ingresso ai match è libero quindi una buona occasione per vedere del buon tennis in città andiamo a vedere le nostre webcam prima di passare la parola a Matteo De Simone per gli appuntamenti culturali qui siamo in piazza palazzo di città questa è in questo momento l'inquadratura della piazza vedete l'inquadrato palazzo civico vi ricordo che è in corso il consiglio comunale adesso siamo in una pausa tecnica dei lavori ma riprenderà a breve lo potete seguire in diretta web sul nostro sito qui siamo in piazza Castello l'inquadratura di via Roma dell'inizio di via Roma dalla webcam della regione Piemonte per quanto riguarda il traffico invece eccoci a nord nella rotonda autostrade che immette sulla Torino Milano abbiamo un po di traffico in questo momento in uscita dalla città mentre nella zona sud questo è piazzale Caio Mario abbiamo un po di traffico soltanto nel quadrante inferiore destro cioè in via Onorato Vigliani per immettersi su piazzale Caio Mario bene allora io passo la parola a Matteo De Simone che ci dirà che cosa fare questa sera in città l'appuntamento con tutti voi domani mattina alle 9.15 bene grazie Mirko sono tre gli appuntamenti che vi segnaliamo questa sera cominciamo segnalandovi all'auditorium dell'educatorio della provvidenza del Torino questa sera alle 20.45 l'esibizione del trio di Stefano De Otto con Emanuele Rossiglioli ed Elena Camerlo per il ciclo Aurore musicali in crocetta è cominciata giovedì scorso e proseguirà fino al 5 luglio la serie di appuntamenti con il teatro di strada raccolti sotto il nome di Vanchiglia by Night questa sera dalle ore 20 in varie vie di Torino nel quartiere Vanchiglia appunto spettacoli di teatro di strada Bianca la rossa infine è il titolo del libro che sarà presentato alle ore 18 al circolo dei lettori in via Gugino 9 questa sera saranno presenti le autrici Bianca Guidette Ferra e Santina Mobiglia per questo oggi è tutto l'appuntamento con le notizie dal web della città ritorna domani alle 9.15 ringrazio Mario Parena che ci ha aiutato nella messa in onda della puntata a tutti voi una buona serata grazie a tutti